E sempre nella logica della chiusura della vicenda di transizione delle province la norma che gestisce la transizione della fase finale visto che come sapete anche qui abbiamo mantenuto una promessa che abbiamo fatto, l'abolizione delle province, l'impegno che ci siamo presi, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale di abolizione delle province e oggi attraverso l'inserimento in questo decreto legge della gestione della fase transitoria che serve appunto per evitare che poi nella transizione rimanga ciò che invece deve terminare e cioè deve scomparire.